Questa è una questione aste che tiene il banco? Certo, ecco mi piacerebbe che il Presidente del Consiglio di questo si occupasse più che di Salvini, del fascismo e del nazismo, il Presidente del Consiglio deve salvare questi posti di lavoro, oltre a magari non mettere l'Imu sui terreni agricoli che sta devastando l'Umbria, quindi quando arriveremo nel governo senza bacchette magiche però un approccio più serio al mondo del lavoro ce l'avremo. La questione di sicurezza che poi ci continua a dire che i reati sono in calo, anche la festa della Polizia sabato? Come no, infatti Terni è tranquilla, Perugia è tranquilla, non succede mai niente, è la Lega che inventa tutto, è gente di sinistra che non vive nelle periferie, non prende l'autobus, pensa di prendere gli Umbri per scemi ma gli Umbri sono tutt'altro che scemi. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.